Sembra ancora di cogliere la sua presenza alla scuola materna di San Zeno in Mozzo, tanto amato i suoi bimbi e la gente che qui veniva ad incontrarla. Suor Pura Pagani, la religiosa delle piccole figlie della Sacra Famiglia, morta 11 anni fa in concetto di santità. In questo paese, alle porte di Mozzecane, tra Verona e Mantova, arrivavano persone un po' da tutta Italia per parlare con lei, per attingere forza da questa straordinaria donna di Dio che ha saputo dare tutto a tutti. Passano gli anni, Don Vittorio, ma qui la gente continua a venire e ne viene sempre di più. Anche gente che non l'ha conosciuta viene perché penso sia rimasta colpita dalla vita di Suor Pura, soprattutto la grande carità che ha avuto, carità che aveva la sua sorgente in Dio, la devozione alla Madonna e poi questo grande cuore, un cuore di madre, nei confronti di ogni persona che andava da lei. Sentivi che partecipava in pieno ai problemi, alle difficoltà e incoraggiava. Quando diceva farò pregare i bambini c'era da tremare, vuol dire che la situazione era gravissima. Però lei si fidava veramente del Signore e diceva che fino all'ultimo possiamo chiedere al Signore il miracolo, facendo però dopo, facendo meglio insieme la volontà di Dio Padre. Se Dio Padre la pensava in modo diverso, dovevamo fare come vuole Lui, che è sempre per il nostro bene. Dal giorno in cui Suor Pura ha chiuso la sua vita terrena, la devozione è andata crescendo. A testimoniarlo anche l'associazione che porta il suo nome e che con il parroco e le suore della scuola materna prolunga la sua opera e la sua memoria. Per Maurizio Tosoni chi è stata Suor Pura? Che cosa è stata? È stata una grande madre, una grande suora, una grande mamma spirituale, ma anche per me era la seconda mamma. Non so come ha fatto entrare nel mio cuore, ma lei è entrata e non sono più capace di staccarmene. Chi ha avuto la fortuna di conoscerla la descrive come una donna forte, forte come la sua terra ai Monti Lessini, forte come chi sa di essere strumento inutile nelle mani di Dio. La forza della gente della montagna, il grande spirito del fondatore della vostra congregazione. Diciamo che Suor Pura metteva insieme queste due cose ed è stata per tutti una grande madre. Soprattutto era devotissima di Madre Maria, perché le aveva predetto che sarebbe entrata nel nostro istituto e avrebbe fatto tanto del bene. Ha avuto tante prove, perché non doveva neanche essere ammessa la professione, ma lei le disse, Puttina, questa è la tua casa, tu rimarrai sempre qui.